Adesso andiamo a Fiera Milano City, trasformata in un pezzo di Irlanda per la festa di San Patrizio. C'è un angolo di Irlanda in festa nei padiglioni di Milano Congressi, all'ex Fiera Milano City. Qui è in corso il San Patrizio Festival, un a tre giorni, per conoscere leggende e tradizioni della terra di Smeraldo, con un calendario fitto di eventi. Qual è l'obiettivo di questo festival? Sicuramente di coinvolgere sempre più gente, sempre più persone, sempre più milanesi, ma anche da fuori Milano. Far crescere questo movimento dove c'è tanta musica di qualità e tanta danza, tutto è apportato a misura d'uomo. Il palco ospita gruppi musicali a ritmo continuo. Gli appassionati di rugby seguono le partite su megaschermi, mentre i fan della birra irrandese si concentrano sulla degustazione. Il festival è anche un'occasione per cimentarsi nelle danze popolari o iscriversi a uno dei corsi in programma dal disegno all'arpa celtica. Sono con mia moglie e con mia figlia, che sono qua in altri corsi, ci piace l'arte celtica in generale, la birra. Ho fatto fare due laboratori per i bambini e poi noi andiamo a guardare un po' l'artigianato e le cose che ci sono. È un festival molto organizzato. Grazie.